Speriamo di contagiare altri, per cui se io non arrivo al buon mondo e ci sono altri che stanno facendo la stessa strada, ci arriveranno tutti. Almeno c'erano dei paesi in cui c'era la libera circolazione, ora viene messo pure il dubbio, ci cominciano a chiudere, ci assiste a questa cosa assurda, di questi campi di gente buttata là in attesa di poter passare. Saludiamo e ringraziamo le bande. Il mondo che vogliamo è una pangea contemporanea, in cui i continenti sono vicini, senza sfruttamento, è quello che non lo prendiamo. Alla prossima